Avete letto la notizia che riguarda la Cina, i cinesi. I cinesi sono uomini, donne, sono molto tranquilli, difficilmente litigano tra di loro. Infatti è difficile, però è nata questa idea, dell'attaccabrighe a pagamento. Cioè se tu vuoi litigare con qualcuno è difficile che un cinese vada lì a litigare. Allora è nata questa idea di... Attaccabrighe, persona sempre pronta ad attaccarli con tutti, anche per futili motivi. Eccomi, stavo qua, ho sentito, se volete io, è vero che lavoro qui a Rai sto a sicurezza, però posso pure, se mi affittano fuori orario di lavoro io, se c'è da menà, attacca io, volevo portare il caffè a signorina che ho sentito, ogni tanto se sente... Menare è una forma dialettale che risulterebbe incomprensibile ai più. Ah, ma non sa qua? No, sì, no, è qui, ma è... Perché io la sento di là da guardiola, no? Però dico, non sa qua. No, ma non è reale, è di silicio, è componente di silicio. Hai capito? Silicio ci sarai. Signorina, sal telefono, pronto? Mi senti? Lo sai che è molto affascinante lei, signorina? Cassano, lei è sposato. Sì, sono sposato, sì, sono sposato io, sì, sì, sono sposato, ma da mo' che sono sposato, quindi... Ma poi mia moglie non è gelosa, lavora tutto il giorno, fa la coca per i cinesi, lei appunto... Che cosa fa? Fa la coca per i cinesi. La cuoca? Eh, all'ambasciata di cinesi, lei fa... Ah, la cucina. E allora, Alessi, no, niente. Ma ti do due pizza a te? No, che c'entro io? Ho detto che cucina, a cucina, fa la coca, come va a chiare? Va bene. E a lui, è utile. Fammi parlare, signorina, mi piacerebbe tanto incontrarla un giorno. Io le... Mi chiamo Reimonda, Prudenzia, Perfettini, assistente vocale e professionista di ultimissima generazione. Come è fina, senti, ma è fina educata. Sì, è educata. Non si sente manca il dialetto. Signorina, di dove è lei? Di che paese è? Ma che domande? Che ne so? Ricalcolo, ricalcolo, ricalcolo. Ah, ricalcolo, vicino Frasinoni. Così me la manda in difficoltà, me la manda in palla. C'è Erbino Bono lì da quelle parti, lo sa, signorina? Sì, è vero, Cassù. Che caruccia che è, però mi piace. Sì, molto carino, ma è inutile che faccia così, è sintetica, è sintetica, Cassù. Anch'io, signori, so sintetico, parlo poco e meno tanto, signori. La sintetica domata, proprio. Grazie a tutti.